Sono Enrico Cordero del ristorante Centro di Priocca, un paesino qua nella zona del Piemonte fra Langa e Roero. La nostra gestione dura ormai da 53 anni, da lontano 56, con la stessa famiglia. Oggi vi presentiamo alcuni piatti della nostra cucina, io sono in sala con i miei figli Giampiero e Valentina che mi aiutano oltre alla sala anche nella gestione della cantina e nel servizio dei vini, mentre mia moglie con alcuni collaboratori gestisce la cucina e propone i piatti del territorio. Ora vi presento questo piatto che è una crema di gorgonzola con barba dei frati. Gli ingredienti sono latte, barba dei frati, gorgonzola dolce, uova di quaglia e un frullato di prezzemolo e olio e fiori per la decorazione. Ora scaldiamo il latte, lo portiamo a una temperatura di 70-80 gradi, incorporiamo la gorgonzola e la facciamo sciogliere nel tempo di 4-5 minuti. Ora che la gorgonzola è sciolta ci rimane solo che da filtrarla per eliminare le muffe e abbiamo una fonduta di gorgonzola bianca pulita. Per questo passaggio occorre un'altra parte di gorgonzola bianca pulita. lavare accuratamente la barba dei frati in padella con olio extravergine, sale e la saltiamo per circa 1-2 minuti. La teniamo molto molto al dente. Adagiamo sul fondo del piatto la fonduta di gorgonzola, la quantità necessaria che desideriamo avere. Arrotoliamo la barba dei frati per darle una forma un po' più circolare che rimanga a nido nel centro del piatto. Disponiamo su di essa l'uovo di quaglia e decoriamo il piatto a piacere con dei fiorellini di campo e la salsa di prezzemolo e olio extravergine.